Il triangolo dell'estate è stato protagonista di questo primo fine settimana di gran ritorno dei programmi tv. Albano a Verissimo, Loredana Lecciso a Domenica Live e Romina Power a Domenica Inn. Nessuna verità sul triangolo ma tante conferme, Albano ama tutti, la sua è una famiglia allargata, Loredana Lecciso è tornata a casa i due si sono riavvicinati ma non come uomo e donna ma come amici, e Romina. Sembra che anche lei sia pronta a vivere in pace con il suo ex, con un clima ritrovato e mentre il gossip impazza mattino 5 si parla di quello che è successo nel fine settimana con un lancio importante da parte del giornalista Paolo Giordano. Quest'ultimo è pronto a scommettere che questo triangolo d'amore possa davvero regalare al pubblico una grande fiction che sicuramente otterrà il massimo degli ascolti, magari non ora ma tra dieci anni. Sarà davvero la sitcom che ci manca questa? Non ci rimane che attendere le prossime dichiarazioni dei due. Ospite di Domenica Inn, Romina Power ha parlato con commozione del padre Tati Ron, morto quando lei aveva 7 anni. Purtroppo non ho ricordi di mio padre da vivo, ho cercato di fare i miei ricordi degli altri. Mia madre ne parlava poco. Se mi è mancato? È come chiedere ad un albero se le mancano le radici, ha raccontato l'ex moglie di Albano Carisi. Anche questo vuoto ha inciso nella sua continua ricerca spirituale, vado alla ricerca di luoghi isolati per stare in contatto con la natura. Scrivo molto, infatti sono usciti tre romanzi. La Puglia ha un posto speciale nel mio cuore, è un luogo di sensazioni molto forti, ma sono ancora alla ricerca del mio posto ideale per essere tranquilla interiormente. Ero sempre alla ricerca qualcosa senza discrepanze, che desse un senso a tutto e l'ho trovato nel buddismo tibetano. A proposito di religione e spiritualità, ha parlato di quando ha conosciuto Papa Giovanni Paolo II, era un uomo molto speciale, ho sognato quell'abbraccio 15 anni prima di conoscerlo. Avvertivo qualcosa di speciale in lui, aveva una bontà di cuore. Ora invece è buddista. C'è un'interferenza nello studio. L'audio non arriva. Poi però si lascia scappare una battuta, ho quattro figli bellissimi. Io ho fatto del mio meglio, ma anche Albano ci ha messo del suo. Sulla sua situazione sentimentale ha aggiunto, tutti mi cercano, tutti mi vogliono ma io non piglio nessuno. Ha continuato a scherzare anche riguardo il bacio appassionato con Kabir Bedi, se non mi baciava lo facevo tornare in India a piedi. A domenica in comunque non sono mancate le sorprese, come il video messaggio della figlia Cristel, volete sapere che non è, vero?. Grazie mamma di essere stata accanto a me. Sono stati mesi intensi, è stato bello poter contare su di te. In Croazia non mi sentivo a casa, ma tu mi hai fatto sentire a casa. Un augurio anche a Mara, ti auguro il meglio. Romina Power ospite di Mara venierà domenica in. L'ex moglie di Albano Carrisi ha parlato della nascita del nipotino Kei, figlio di Cristel e da Vorlusic. Avevo ansia di vederlo, ho trascorso tre settimane ad aspettarlo, quest'estate me lo sono goduto, ha raccontato Romina. Il piccolo è nato a Zagabria, in Croazia, dove Albano è arrivato dopo. Lui deve mantenere tutta la famiglia, quindi deve lavorare, ha scherzato Romina. Poi ha rievocato il momento in cui ha avuto la notizia della nascita di Kei, da Vor è venuto piangendo, è un'emozione che non si può descrivere. L'arrivo del nipotino comunque ha cambiato la sua vita, ti fa credere di nuovo nel miracolo dell'amore di della vita. A proposito della figlia Cristel invece Romina ha detto, la vedo poco, ma con questi mezzi moderni riusciamo comunque a vederci. Sono contenta che abbia avuto il matrimonio dei suoi sogni. Romina Power è riuscita nel suo intento. La storica moglie di Albano, ormai ex ma sempre al suo fianco, è centrato il bersaglio ed ha convinto il leone di Cellino a non ritirarsi dalle scene musicali. È lo stesso Carrisi a svelare di aver scelto di continuare a cantare al fianco della Power, in seguito alla loro recente riunione e ritrovata serenità. L'ex coppia continua ad essere affiatata sul palco, unita dai figli e dai tanti anni di matrimonio vissuti gomito a gomito. Nel frattempo la coppia è ritornata al centro dell'attenzione pubblica anche per un altro e doloroso motivo, ovvero la scomparsa della primogenita Ilenia Carrisi. La ragazza sembra svanita nel nulla nel 94 e Romina non ha mai perso le speranze di poterla ritrovare. Di recente si è diffusa una nuova voce riguardo ad un suo presunto ritrovamento e stupisce il fatto che per una volta la cantante abbia scelto di non esprimersi al riguardo. . Tanto che nella sua non reazione, qualcuno avrebbe intravisto la volontà di non aggiungere dolore alla sofferenza mai svanita. Questo pomeriggio, 16 settembre 2018, Romina Power sarà inoltre ospite a Domenica e ne non è chiaro se parlerà di queste voci diffuse dal giornale tedesco Frau At Well. . Secondo la stampa, Ilenia sarebbe stata avvistata in un convento dell'Arizona di stampo greco-ortodosso. Voci per ora non ancora confermate e che seguono la scia di rumors che sono già apparse in più di un'occasione in passato. Albano intanto ha già manifestato più volte il suo pensiero, Ilenia non tornerà mai più. . Di ritorno in Italia, Romina Power ha scelto di viaggiare in treno al fianco del suo immancabile amico Peloso. Una foto pubblicata in questi giorni mostra i piedi nudi della cantante, su cui spiccano due diverse tonalità di smalto. Rosso e giallo, esattamente come la pettorina del suo amico a quattro zante. . 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